Buongiorno e benvenuti a questa rassegna di oggi 20 giugno. Sono sconfortato, vi dico perché siamo sconfortato, perché chi non è di sinistra, chi non fa parte di quel giro là, non c'è nulla, nulla, nulla da fare. Possono cambiare i governi, può cambiare tutto, ma alla fine la leggemonia gramsciana, definiamola così, della sinistra è globale, è in tutto il mondo, non abbiamo proprio possibilità. Ve le metto tutte quante in fila le cose di oggi perché sono delle robe incredibili. La prima riguarda, secondo voi, magari è la cosa meno importante, i temi della maturità. Nei temi delle maturità ci potrà essere, porca puttana, una volta che citano un liberale, una che sia una. Sciascia ha un passato, almeno sulla giustizia, di garantista, di radicale, di posizioni non esattamente simili a quelle dei manettari di oggi, ma ovviamente non vengono presi quei pezzi di sciascia, viene preso l'altro sciascia, quello più bello, più siciliano, più narrativo, un altro sciascia, non quello politico che obiettivamente a scuola forse può interessare di meno. Però la cosa scandalosa è il fatto che sia stato preso un pezzo di Tommaso Montanari, che è un emerito sconosciuto, se non per i lettori del Fatto Quotidiano, se non per il sindaco di SEL, esiste ancora di Sesto Fiorentino, cioè comunisti così, se non per il fatto che abbia detto che Oriana Fallaci è orrenda, ha detto che Oriana Fallaci è orrenda, se non per aver detto che Zeffirelli è un insopportabile mediocre, va bene, un insopportabile mediocre. E noi abbiamo dato a questi ragazzi oggi su Repubblica quanto ci godevano, in cui dicevano Bartali chi, prendevano in giro il fatto che una traccia era totalmente, come ti posso dire, era una traccia rispetto a uno sportivo che nessuno conosce, oggi si conoscono soltanto, immagino, quelle che giocano a calcio femminile, figuratevi un po' voi se ci ricordiamo di Bartali. Allora, queste tracce dei temi facevano schifo, facevano schifo, e uno dice, ma perché devi votare il centrodestra? Ma perché devi votare i leghisti? Perché devi avere questo ministro per avere Tommaso Montanari come traccia? Per quale cazzo di motivo devi avere un ministro di destra, della Lega, un ministro che non è il solito comunista, catto comunista per avere Tommaso Montanari, che rappresenta il vostro punto di riferimento culturale? Se il punto di riferimento culturale di questo governo è Tommaso Montanari, beh, almeno è meglio Renzi, è meglio Berlinguer, è meglio Prodi, è meglio gli altri, tanto quelli sono gli originali. No, noi abbiamo questi che hanno il complesso della sinistra, e per cui si devono prendere come traccia, la traccia di oggi, una specie di storico dell'arte sconosciuto, di cui parla benissimo oggi Vittorio Sgarbi, e che si permette di dire che Oriana Fallaci è orrenda, e noi ai nostri studenti, che faremo diventare tutti culturalmente di sinistra, in parte lo sono, e mi spiace per quei pochi che sono liberali, alcuni mi scrivono, ci dobbiamo beccare questi qua, capito? E noi abbiamo un sindaco, abbiamo un ministro leghista, leghista! Complimenti, complimenti, bravo, bravo ministro, ti conosco pure, ti ho anche incontrato, complimenti! In un paese normale, sapete chi preferisco? Preferisco Salvini, che fa un tweet ieri, e che magari una piccola aggiustatina ai suoi ministri vi potrebbe anche darla, che ieri dice che è orrenda, non la Fallaci, ma una signora, e la trovate questa signora sul mio sito internet, perché vi faccio vedere come ha aggredito una nostra giornalista, e questo è venuto un paio di mesi fa, questa signora ha commesso, è una ladra maledetta, e Salvini l'ha definita ladra maledetta, probabilmente il suo ministro, il suo ministro, cioè quello della pubblica istituzione, non avrebbe preso il tweet di Salvini, ma quello di Tommaso Mantarari, o quello del pezzo di oggi del Corriere della Sera, che dice che è un caso il tweet del ministro. Allora io vi chiedo, è un caso il tweet del ministro Salvini, o è un caso il fatto che ci sia una ladra che ha 33 anni e è stata arrestata 40 volte, ha 25 anni di pene da scontare e continua a rubare, e ieri questa maledetta, maledetta, ha cercato di rubare a un signore di 80 anni, in sedia a rotelle, turista. Secondo voi cosa doveva scrivere il ministro degli interni? Ah, non doveva scrivere niente, probabilmente non doveva scrivere niente. Doveva far discutere questa cosa a quell'orrenda della Fallaci, o a quel mito di Montanari che il ministro leghista, compagno di Salvini, oggi ha usato come traccia per i nostri studenti. Ma va, dai! La cultura di sinistra è quella vincente, è quella della Serpentine, la straordinaria, favolosa galleria nel centro di Londra, nel centro e nel parco di Londra, di Hyde Park, in cui la sua direttrice viene considerata la più grande attivista del pacifismo, dei buoni sentimenti inglesi, si chiama Yana Pill, è sposata una mecenate, mercante d'arte e tutte queste balle qua. Beh, insomma, c'è un piccolo problema, che la mecenate d'arte, direttrice generale della Serpentine, partecipa a una società israeliana, la quale società israeliana, geni questi israeliani, qualche volta, che cosa hanno fatto? Hanno venduto un software per intercettare Whatsapp, e che vengono usati dai dittatori di tutto il mondo, tra cui quelli dell'Arabia Saudita. fantastico, no? Gli israeliani che producono un software per i dittatori dell'Arabia Saudita, che saranno meglio per gli israeliani rispetto ai wabiti, rispetto agli iraniani, però insomma per noi europei forse io li metterei tutti sullo stesso piano. E allora la paladina dei diritti umani fa i soldi e poi tutti vanno alla Serpentine, che bello questa cosa, la nave della cultura, dell'immigrazione, e come diventa ricca? Vendendo un software spia che comprano i sauditi per mettere a intercettare e mettere in galera i loro nemici. Io la trovo una storia favolosa. Peccato solo che non è in Italia, i personaggi non li conosciamo, perché questa è una specie di mito della cultura e del progressismo londinese. È fantastico. La BBC nel frattempo, io se fossi in Inghilterra leggerei solo il Daily Mail, l'altro che tutte le minchiate del Financial Times e compagnia cantante, il Daily Mail oggi ci racconta come è stato trattato ieri Boris Johnson, il candidato, uno dei 6-5 candidati ancora rimasti in corsa per la successione della inutile Mimei, ovviamente conservatore, come è stato trattato dalla BBC. Le domande erano fatte da persone, da un imam, o da persone che erano state cacciate da Facebook per le loro volgarità, per le loro cattiverie, per il loro estremismo e vengono utilizzate da BBC. La stessa giornalista è anticonservatrice. Direi che tutti quanti siamo figli della stessa cultura e pregiudizio favorevole alla sinistra. Chi più, chi meno. Insomma, in Francia è un po' diverso, perché il processo a Sarkozy è straordinario. Quello che rideva di Berlusconi e che qualcuno di voi ieri mi ha detto ha fatto il complotto contro Berlusconi, insomma, è a processo, perché avrebbe corrotto un magistrato che si chiamava l'annullatore. E' bellissimo, oggi mi sembra Montefiori sul Corriere della Sera, perché lui con questo magistrato aveva rapporti per sapere come stavano andando le indagini sul suo conto riguardo a 2.000 processi che Sarkozy ha. Il finanziamento illecito che ha avuto da Gheddafi, 50 milioni si dice, i suoi rapporti con una ricca ereditiera di una multinazionale francese, la Betancourt. Insomma, ci sono un sacco di questioni che quel sorridente di Sarkozy oggi non si riesce a capire bene a che cosa sorrida. Forza Italia pensa di aver trovato la quadra nominando Toti e Carfagna come loro coordinatori. C'è stata un'ipotesi che fosse raffiancata da Tajani e da Bernini e da Gelmini anche perché Toti e Carfagna erano i due ribelli rispetto alla dirigenza attuale di Forza Italia. Quello che io penso è che Toti e Carfagna andranno d'accordo come cane e gatto. Facile previsione su queste nomine che porteranno a casa risultati pari a zero. Un po' come Di Battista e Di Maio. Di Battista ha detto che se si vota ci sono e sono pronto a scendere in campo. E poi non si è vergognato minimamente di dire che se si finisse la legislatura entro il 15 luglio non varrebbe il secondo mandato. Fantastico, quella che era scritta. Mille volte mi hanno detto che non cambierà mai il secondo mandato. È un obbligo per noi del Movimento 5 Stelle. Vedrete che la cosa cambierà. In Europa forse ce la caviamo, secondo i giornali, con riduzioni di 2 miliardi della spesa pubblica che peraltro dovrebbero essere già nelle pieghe di bilancio perché quota 100 e reddito di cittadinanza non hanno funzionato così bene. Infine l'ultima questione riguarda il CSM e i magistrati. Greco dice che quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle elettrovie della burocrazia romano non ci appartiene Greco il procuratore, il capo della procura e quindi dell'accusa di Milano ma vorrei ricordare a Greco, grande magistrato, che proprio a Milano fu insabbiato, ucciso dal punto di vista professionale e allontanato quel giudice Robledo, quel PM Robledo che stava indagando su tante cose dal suo predecessore, quello di Greco, cioè Bruti Liberati quindi qualche piccolo pasticcetto come ci ha raccontato Robledo a noi a Quarta Repubblica anche a Milano è arrivato. Un pensionata che mi segue sempre, Antonietta, ciao e secondo te Nicola il Veneto avrà l'autonomia? Forse ieri nel Consiglio hanno deciso di portare un po' di autonomia, porta Toti in attuale trasmissione, l'ho fatto tante volte, è proprio vero, i provabili sono le virtù dei popoli, non sbagliano mai, dice Antonella e tanti di voi che continuano a mandare massaggi. Buona giornata in Thailandia, mitico Elio ti saluto e buona giornata in Thailandia dove spero di raggiungerti presto. Ciao e reggete sul sito ricolaporro.it questa scena incredibile di quella donna di cui parlava oggi Salvini arrestata per la quarantesima volta e che non va in galera e che ha cercato di menare una nostra giornalista di Quarta Repubblica. Ciao.